brevissimo video voglio darvi qualche spunto non sono io a dire queste cose singolari coincidenze coincidenze perlomeno singolari ogni nuova tecnologia porta delle onde radio di diversa frequenza e poi si sviluppano delle epidemie perché i nostri corpi non sono per così dire abituati non si sono ancora adattati e quindi le persone deboli muoiono ogni volta che nella storia umana c'è stata appunto l'introduzione di una nuova tecnologia abbiamo avuto queste conseguenze nel 1945 46 il globo è stato riempito di radar e si è avuto una pandemia nel 1968 l'introduzione massiccia dei satelliti e abbiamo avuto la cinese nel 2020 entra in funzione massicciamente il 5g in corrispondenza abbiamo il covid 19 noi non vogliamo dire che tutte le morti siano associate a questa nuova tecnologia del 5g per restare ai nostri giorni ma certo certo ci sono delle quanto meno delle concause approfondire 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 e intanto perché non spegnere 5g per 3 4 5 giorni lo so che si toccano degli interessi enormi ma sarebbe la prima cosa da fare sarebbe un dovere etico e morale vediamo se i nostri governanti governo centrale sto parlando di roma finalmente iniziano a prendere queste iniziative grazie a tutti grazie a tutti